Ci racconti un po' le tue caratteristiche, se sei abituato a giocare in questo modulo, se c'è un modulo che invece preferisci, per sovrapportarci qualche cosa di te, grazie. Sì, buonasera intanto, buongiorno. Diciamo che questo è il mio modulo preferito, ho sempre giocato in questo modulo, sono 3-4 anni a questa parte che gioco con la difesa 3, quindi mi sono trovato subito bene, mi trovo a mio agio. Le mie caratteristiche sono proprio quello che chiede il mister, ovvero quello di giocare la palla, di saltare l'uomo e ovviamente di fare il difensore.